Diventiamo sempre meno, paradossalmente dobbiamo ringraziare la Fornero se qualcuno è rimasto un po' di più. Il direttore generale dell'ASL Vito Piazzolla è consapevole che per un'affermazione del genere potrebbero crocifiggerlo e sa pure che il turnover porterebbe nuova linfa ai giovani, ma la coperta è sempre troppo corta, considerato il fabbisogno di personale. Nel frattempo però si conclude il processo di stabilizzazione dei precari. Concludiamo oggi l'arruolamento di tutti i nostri operatori che aspettavano da tempo la stabilizzazione. Quindi la facciamo oggi, l'ultima delibera, anzi le ultime due che erano un po' più complicate, ma le facciamo oggi. Stiamo procedendo con un nuovo fabbisogno che abbiamo già presentato settimana scorsa in Regione. Adesso la Regione ci farà capire un po' quali sono anche i parametri sui quali possiamo contare. Poi passeremo a fare i concorsi e ad assumere le persone. La verità, i concorsi noi li abbiamo già avviati, quindi ci siamo fatti avanti. Naturalmente abbiamo bisogno adesso di costituire una dotazione organica che sia all'altezza di questa ASL. La vertenza 118 come si risolve? La vertenza 118 è una vertenza tutta giustificata, devo dire, perché è un sistema che è cresciuto in maniera forse troppo naturale in un'organizzazione così complessa come è la nostra, con tante criticità. Noi siamo l'unica azienda che ha l'anomalia Sanità Service, cioè più della metà delle nostre postazioni sono all'interno di Sanità Service. È evidente che Sanità Service assicura non solo uno standard più alto, ma agli operatori assicura anche una dignità, diciamo, contrattualistica più importante. La Regione Puglia ha dato assicurazioni che attraverso l'agenzia unica regionale tutto si potrà risolvere, io ne sono convinto, ne sono convinto perché è il momento, mi sembra un po' paradossale però, lo devo dire, come ho detto agli stessi operatori, che l'unica giunta regionale, consiglio regionale che ha cominciato a parlare di questo possa essere così contestata, perché sono 16 anni che ne parliamo, per la prima volta qualcuno mette un punto fermo.